Bando Patrimonio culturale per lo sviluppo In Italia il patrimonio culturale rappresenta una risorsa fondamentale per lo sviluppo culturale, sociale ed economico dei territori. Attualmente nella progettazione di interventi di recupero di immobili di interesse storico-architettonico, si riscontra spesso l'assenza di una chiara visione sulle destinazioni d'uso e sulle modalità di gestione dei beni. Per esprimere appieno il potenziale del patrimonio culturale, si dovrebbero invece prevedere interventi di rifunzionalizzazione e piani di gestione di lungo periodo, capaci di valorizzare i beni rendendoli anche economicamente sostenibili. Fondazione Cariplo intende favorire la conservazione dei beni e il miglioramento delle modalità di gestione del patrimonio culturale al fine di promuovere lo sviluppo economico locale. Il bando sosterrà pertanto interventi di rifunzionalizzazione di beni tutelati e l'avvio all'interno di essi di attività innovative. Alle attività di natura culturale, che avranno un ruolo prioritario, dovranno essere affiancati servizi, anche di natura commerciale, in un'ottica di sostenibilità. I progetti dovranno riguardare preferibilmente interventi cantierabili e attività culturali attrattive per il pubblico e favorire il coinvolgimento di giovani operatori. Il bando si rivolge a enti pubblici e privati non profit, proprietari o titolari della gestione di beni vincolati, siti nel territorio della Lombardia e delle province di Novara e del Verbano Cusiossola. Grazie a tutti.